Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Dopo una mattinata intensa non c'è niente di meglio di un bel pranzo ristoratore. L'appeto l'icco al forno. E il menù del vecchio ordinamento regala sempre grandi emozioni. Zampa di maiale. Ma basta! Ma ci sono le pene? Ma ci sono pure le une! Ma ci sono le pene? Ma che schifo! L'aspetto pure il pisello del cavallo. Cioè ormai le ho viste tutte. I ragazzi ormai si aspettano veramente di tutto. Io l'aspetto pure il mio corpo più inzigo! Ma è un piatto però come tornare a dimostrare! Chi si non è inserga setta il tuo corpo!